Alla fine il sindaco Pierluigi Biondi rompe gli indugi e attraverso un post molto mattutino annuncia di restare alla guida del comune. Ringrazio ma vado avanti, questo l'esordio di Biondi. La decisione l'ho presa durante la riunione per organizzare i primi passi del decennale del sisma. Dice, troppi sentimenti, troppe passioni e troppe speranze, prima ancora notti insonni, riflessioni, discussioni in famiglia, le amici, le persone incontrate per strada, la gente normale che ha il mio numero di cellulare, quelli che ti invitano a farlo perché non c'è mai stato un candidato presidente a Quilano Doc, quelli che ti dicono che è meglio di no perché c'è tanto tantissimo ancora da fare, scrive Biondi. Gli uni e gli altri con le stesse ragioni. Qualcuno meschinamente, polemizza poi il sindaco, ha tirato fuori questioni di poltrone e soldi. Io che la poltrona più bella del mondo ce l'ho già e che non ho chiesto manco il telefono di servizio a un centesimo di rimborso spese. L'avrei fatto per l'unico motivo che mi spinge a fare politica, l'amore per la mia terra non lo farò per lo stesso unico motivo. Il sindaco ringrazia anche Giorgia Meloni per l'opportunità, per il suo affetto per l'Aquila e il cratere, per la sua attenzione e ringrazia anche la comunità di Fratelli d'Italia per il lavoro che sta facendo, la sua classe dirigente nazionale e locale. Ringrazio i tanti che fuori e dentro la coalizione si sono resi disponibili, dice ancora. Sono certo che sapremo trovare tutti insieme il candidato giusto per il centrodestra, quello che saprà rivolgersi all'Abruzzo unico e dalle cime del Gran Sasso alle coste dell'Agriatico.